Il comune di Roseto degli Abruzzi non si arrende e invia alla regione le sue contradduzioni al piano naturalistico PAN della riserva del Borsacchio, area di grande valore ambientale che ha ricevuto molte osservazioni da parte di enti, associazioni e cittadini, contrari al suo ridimensionamento. Il Consiglio Comunale riunito oggi alle 9.30 in seduta straordinaria ha ratificato le contradduzioni frutto di un lungo confronto con gli uffici regionali. Sì abbiamo svolto in maniera egregia con grande unità quello che era un compito preso nei confronti dei nostri elettori ma anche nei confronti del territorio che in poco tempo ha avuto le contradduzioni alle osservazioni per il piano d'assetto naturalistico che se è vero che ha avuto una gestazione di tanti anni ma con questa amministrazione ha avuto un'accelerazione per dare una legittimità ad un'opportunità davvero del territorio come dicevo. A seguito di questa azione impropria e soprattutto scoordinata io dico di Regione Abruzzo di fine anno confermata purtroppo anche dalla loro convinzione nella pubblicazione della norma stessa ecco la reazione resiliente di questa amministrazione della città di Rosetta è stata quella di rimettere la palla al centro di confermare quanto detto e cioè che i verbali e le riunioni il tavolo tecnico se era riunito aveva lavorato allacremente e andare oggi in consiglio per approvare appunto il lavoro del tavolo tecnico per poi consegnarlo abbiamo anche questa occasione martedì quando saremo ricevuti in audizione nel consiglio regionale dal presidente Marsiglio al presidente Sospiri con tutti i capi gruppo e consegnerò materialmente e fisicamente le contradduzioni delle osservazioni a Regione Abruzzo che così potrebbe se dovesse volere abrogando appunto parte della norma approvare il PAN e così completare questo iter che il territorio chiede a gran voce. Ma proprio in vista di questo consiglio dal canto suo la Regione ha pubblicato nella giornata di ieri sul Bura il bollettino ufficiale della Regione l'emendamento approvato che riduce a 25 ettari l'estensione dell'area protetta questo significa che il documento sottoscritto oggi non ha valore dal punto di vista tecnico per l'approvazione del PAN ma solo valenza politica per testimoniare le intenzioni del Comune Costiero quindi se la Regione decidesse di fare un passo indietro sulla riperimetrazione potrebbe approvare il PAN proposto dal Comune. Ora non ci sono più scuse, il 30 la palla torna alla Regione che potrà decidere se vanificare 19 anni di impegno e di storia anche travagliata oppure gettare di nuovo l'aria in un oblio perché ricordiamoci senza riserva lì gli interventi non saranno più sbloccati. Il 30 saremo all'Aquila consapevoli che è un giorno feriale un martedì di mattina ma chiediamo a tutti quelli che potranno di venire a fare un sit-in davanti al palazzo dell'emiciclo del Consiglio regionale.